La Fraternita dei Laici nella sua facciata ha dal 1435 una scultura di Bernardo Rossellino, è la Madonna della Misericordia. Sotto quel manto ci sono i nati ad Arezzo e coloro che vivono ad Arezzo. La Fraternita dei Laici in primo piano nella gestione dei servizi sociali si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per la più antica istituzione aretina in collaborazione con le associazioni di volontariato. A dar avvio a questa rivoluzione nelle politiche sociali una delibera di giunta costruita di concerto tra il sindaco Alessandro Ghinelli, l'assessore Lucia Tanti e il primo rettore Pierluigi Rossi. Sono le tre aree attraverso le quali abbiamo avuto l'indicazione dalla giunta municipale e dal sindaco. Una sono le aree di disagio delle famiglie e i minori e noi agiremo su questo. Il secondo si tratta di superare il disastro sociale e abbiamo già un progetto che si chiama co-housing che è rivolto alla prevenzione del disagio. Infine la terza area è l'azione per la prevenzione per l'integrazione socio-sociale e culturale. Noi insieme con la prefettura abbiamo elaborato un progetto che si chiama FAMI. Parteciperemo insieme con l'università, con l'ASLE e con altre istituzioni ad un intervento di formazione per gli operatori pubblici che sono interessati e coinvolti nella gestione dei migranti. Entro giugno alcuni servizi dedicati ai nuovi aretini verranno trasferiti presso i locali di Traternita e tutto il patrimonio immobiliare che oggi era a disposizione dei richiedenti asilo verrà invece utilizzato per dare un sollievo di tipo abitativo progettuale agli aretini in difficoltà. La Fraternita dei Laici infatti non aveva partecipato al bando biennale emesso dalla prefettura per i progetti di accoglienza ai migranti. Abbiamo considerato che era arrivato il momento di intervenire con modalità diverse e non chiudersi solo alla gestione diretta. Abbiamo realtà molto importanti tipo la Croce Rossa, tipo la Caritas e tipo altre istituzioni che hanno capacità, uomini molto preparati per fare questo. Noi possiamo svolgere un ruolo di una integrazione sociale e culturale che questa città richiede. Grazie.